Il 8-9 di ottobre noi abbiamo fatto gli stati generali del sistema scolastico e formativo Ligure, saremo ai magazzini del cotone, già sono 600 e più gli iscritti perché in realtà noi dobbiamo parlare del rapporto scuola-mondo del lavoro e territorio, dobbiamo affrontare il tema della scuola digitale non solo per rendere la scuola più moderna ma anche per rintrodurre un approccio, una cultura e una possibilità di sperimentare nuove didattiche. Esiste in Liguria solo l'istituto comprensivo, i piccoli dalle medie in giù sono tutti organizzati per comprensivi, però dobbiamo verificare che ci sia un'effettiva verticalizzazione e collaborazione e integrazione tra materni elementari e medie. Ci sono temi posti da questa riforma del governo fondamentali, è l'unico paese che sa più o meno di quanti insegnanti ha bisogno e non riesce a definire il numero di insegnanti in ruolo che consenta di evitare il balletto di tutti i settembre e soprattutto un conflitto tra poveri, tra chi ha le abilitazioni, chi ha le graduatorie, i pass. Credo che questo governo riceva un'eredità assolutamente pesante. Grazie